o come potuto farlo io il grande mago julian fogo l'avrei potuto ti faccio una magia solo cosa vuoi diventare cosa un'asina posso trasformarti in quello che voglio oh no grande mago per favore no trasformarmi ehi sonora la più grande maga di tutte via della oh certo da quale regno arrivi tu non l'ho mai sentito di te la mia bacchetta molto più forte della tua oh no meno male che sei arrivata mi stava per colpire decideremo chi è più forte il duello più grande di tutto il reame insomma oh no hai visto la mia bacchetta vincerò di sicuro io sono il mago più grande julian fogo e io sono anna la più forte di tutte e di sicuro ti trasformerò smettetelo subito io sono il toro più forte smettetelo oh no oh no questo battaglia ferma quando uno di due avrà perso e non sarò sicuramente io il grande mago ehi smettile sono molto più forte di te e ho anche la bacchetta e anche i modi di dire migliori si insala bene no la porta rimane è chiusa se voi non la smettete se continuate a combattere così allora la porta rimarrà chiusa per sempre oh no non voglio rimanere qui nel mondo delle fate io voglio voglio far sparire quest'anno insomma aiuto aiuto ok ok julian hai vinto sei il più grande mago ok per oggi ok la battaglia è stata decisa allora dovete fidarvi uno dell'altro ok ok mi dispiace e di nuovo l'ha aperta si è aperta oh wow oh che bello sono così contento ehi ma cosa c'è entro la porta non lo so oh che bello wow sembra un parco divertimenti ma per ragazze ecco qui nella valle fatata insomma non me l'aspettavo non ho mai visto però tutto così insomma da ragazza mondo sbagliato per me ah che bello questo mondo mi piace un sacco guarda ci sono degli unicorni da perduto sì ve l'avevo detto questo è il mondo delle fate benvenuti siete tre stranieri no non sono straniero sono julian vogel e tu che sai julian è una fata ciao io sono anna anna e julian ma non è possibile voi siete siete i maghi più forti cosa ma non è possibile seguitemi per favore molto molto importante qui nel mondo delle fate è tutto diverso rispetto che da voi e abbiamo unicorni vedete e questi unicorni ecco hanno perso il senso guardate come sono tristi oh sono davvero tristi cos'è successo vedete la sopra c'è mia sorella e lei che controlla tutti ma gli unicorni non stanno bene per niente cosa ma chi hanno perso hanno perso la loro guida ma non è possibile no non puoi essere tu la guida può essere solamente il pegaso ma è stato portato via dalla strega cattiva e non solo questo ma anche i nostri bambini sono stati messi lì le mie due figlie cosa i bambini vivono là nel bocciolo sì 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 si sta in silenzio si sente urlare aiuto è già qualcuno aiuto sì e nella profezia c'era scritto che sarebbero arrivati due stranieri che ci avrebbero aiutato sì noi siamo maghi possiamo aiutarli oh come sono contenta questo è il nostro pegaso ma dobbiamo liberarlo oh l'unicorno cerca tutto il tempo di liberarlo ma non funziona oh sì questa strega cattiva nera può essere insomma il suo incantesimo può essere rotto davamente da due persone davvero potenti potete usarci aiutarci potete liberare pegaso e anche i miei bambini possiamo provarci ma come dovremmo fare dobbiamo unire le nostre forze magiche julian o se potesse farlo sarebbe davvero fantastico ok ok sei pronta anna si sono allora allora molto molto importante non voglio rendere la tua mogia e guarda ce l'abbiamo fatta l'abbiamo liberato e anche le tue figlie oh ce l'abbiamo fatta l'abbiamo liberato e anche le tue figlie oh ce l'abbiamo fatta l'abbiamo fatta sono cose contenta oh dei miei bambini oh finalmente julian anna emma ma venire a mangiare avete sentire dobbiamo tornare ciao 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 ciao